Se dopo Ferragosto si tirano le somme del lavoro estivo, il Catania guarda l'ultimo mese e mezzo con moderata soddisfazione e al futuro con ottimismo. Si va avanti pensando al campo dopo l'1-0 con il Sud Tirol che ha regalato passaggio del turno, luci ma anche qualche ombra. Si pensa al mercato con l'arrivo di Sauro, le visite, la firma e il giocatore a disposizione di Pellegrino. Arrivi ma anche partenze come quella molto probabile di Lodi giovedì l'incontro con il Parma. Pellegrino ribadisce l'obiettivo ma dice anche su cosa bisogna insistere per rispettare il ruolo di favoriti. Ma noi vogliamo vincere il campionato e abbiamo solo questo in testa, distanze tra i reparti da migliorare, una difesa preventiva in qualche maniera un po' larga, un po' lunga, quindi delle cose da sistemare. In attacco c'è un Rosina già super, c'è Calaio e poi c'è un po' di fantacalcio sul mercato, legacy Adriano soprattutto ma anche Gomez. Pochissime percentuali anche per Pavoletti, troppe le richieste in Serie A e dall'estero per l'ex bomber del Varese. Fra i tre davanti ieri c'era anche Martigno, positivo, in gol e poliedrico. Dipende da quello che decide il mister, che indipendente dal ruolo che mi mette in campo mi trovo abbastanza bene. In porta Terracciano ha mostrato di potersi giocare il posto, chi sta meglio va in campo, dice Pellegrino Frison, deve recuperare dall'infortunio al flessore e le voci di mercato proseguono. Gile è sempre in alternativa ma lo vuole il Sassuolo. Date i numeri infine, a Cagliari per il terzo turno di Coppa Italia si giocherà sabato alle 21, mentre si saprà solo la prossima settimana la squadra che verrà ripescata in B, non sarà il Novara perché sono escluse le società che hanno subito sanzioni per il lecito sportivo negli ultimi due anni.